Si è insediato a Macerata il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Sferisterio nominato lo scorso 2 ottobre. Il presidente Sandro Parcaroli, convalescente, ha condotto i lavori collegato da remoto. La prima riunione del Consiglio di Amministrazione si è aperta con la nomina del vicepresidente individuato nel consigliere Giuseppe Rivetti. Tra i punti all'ordine del giorno si è discussa la programmazione artistica 2025 presentata dal direttore artistico Paolo Gavazzeni, il quale, dopo aver ringraziato il Consiglio per l'opportunità concessa in questi mesi, ha comunicato di aver ricevuto una nuova proposta professionale che si definirà a breve e che rende impossibile la prosecuzione dell'incarico svolto finora al Macerata Opera Festival. Gavazzeni ha sottolineato che la nuova proposta è arrivata anche grazie all'esperienza maturata allo sferisterio e alla qualità del lavoro svolto e che il progetto pensato per il Festival gli ha permesso di mettere ulteriormente alla prova la sua professionalità. Anche il sovrintendente Flavio Cavalli ha comunicato la sua intenzione di non proseguire l'esperienza al MOF al termine del suo attuale contratto prossimo alla data di scadenza per esigenze professionali e personali. Contestualmente anche lui ha ringraziato il Consiglio di Amministrazione e tutta l'Associazione per l'opportunità e l'esperienza di questi due anni. Il Consiglio, preso atto delle comunicazioni ricevute, ha sentitamente ringraziato i due professionisti per il prezioso lavoro svolto e si riunirà a breve per assumere le conseguenti decisioni al fine di assicurare continuità all'attività dell'Associazione Arena Sferisterio.